Mi presento, mi chiamo Daniele Di Giacomo e sono amministratore delegato di Laser Line Safety & Security Systems SRL, partner esclusivo per il mercato italiano di Automatic System dall'anno 2001. Siamo un'azienda composta da 30 persone che operano come leader di settore del mercato italiano sia per il controllo accesso pedonale quanto per il controllo accesso veicolare. Ritengo che ci siano due elementi ben distinti che hanno favorito Laser Line verso i competitors. Uno sicuramente è un elemento interno, ovvero la velocità e la flessibilità nei tempi di risposta verso il cliente. L'altro elemento fondamentale è il prodotto, il prodotto unico che difficilmente, il prodotto Automatic System che è unico e difficilmente replicabile, anche se molti ci provano ed è un elemento molto importante quest'ultimo secondo me perché in un mercato dove ormai sta diventando globalizzato, un mercato dove i prodotti sono tutti uguali e se alla ricerca solo del prezzo è fondamentale che comunque il prodotto aiuti Laser Line a differenziarsi. Ok? Questo è fondamentalmente secondo me l'elemento più importante. Poi chiaramente abbiamo una struttura che ci permette, una struttura complessa ma flessibile, che ci permette di raggiungere il cliente in maniera più veloce, in maniera più semplice e quindi metterlo, coccolarlo, metterlo nelle condizioni di poter venire da noi perché si sente sicuro e poi ripeto anche perché comunque il prodotto è un prodotto che funziona, è un prodotto che non ha nessuno e non è un prodotto diciamo mass product. Mi auguro facendo parte di una seconda generazione di persone che prenderanno in mano l'azienda nel prossimo futuro di coltivare nuove opportunità, sempre nuove opportunità interessanti con l'aiuto anche di Automatic System quindi di continuare a coltivare questo rapporto, questo buon rapporto reciproco che ci ha permesso comunque nell'arco di questi venti e passa anni di fare buoni fatturati, creare nuove sinergie, nuovi rapporti e magari anche collaborazioni nello sviluppo di nuovi prodotti.